bentornati amici smokers nel video di oggi vi parlerò un attimino di questi tabacchi della samuel gewitt da come si è vincita il titolo parlerò di pregi e difetti indubbiamente la samuel gewitt è un'azienda considerata da molti la migliore almeno in europa a produrre tabacchi da pipa che produce tabacchi da pipa da più di 200 anni sicuramente chi fuma la pipa da diversi anni di tutta la linea c'è uno o due prodotti che gli piace tantissimo il suo tabacco preferito tra i più blasonati 1792 flake golden glow full virginia lei che è lo squadron leader per il lataglia il saint james per i vape ossia i virginia peric nonostante ormai una riconosciuta qualità diversi prodotti si registrano anche dei difetti nella nella conservazione e nella stoccaggio di questi tabacchi che in diversi casi consumare consumatore ha trovato delle latte sia troppo secche che con delle muffe c'è bisogno però secondo me di ricostruire un attimo temporalmente cosa è successo soprattutto per i nuovi fumatori che ce ne sono tanti e mi chiedono di questi tabacchi fino al a due anni fa i samuel gewitt arrivavano anche in italia i fumatori più datati potranno dire che la differenza ce n'è ce n'è molta tra le latte che si trovano adesso addirittura da un paio di anni non sono stati più importati in italia questi tabacchi della samuel gewitt perché sarebbero dovuti aumentare i prezzi quando già una latte era arrivata a costare 30 euro quindi allo stato attuale oggi quello che si trova in commercio in italia sono le rimanenze di magazzino poi in altri paesi d'europa stanno importando il samuel gewitt ma quanto sembra ci sono anche dei problemi di produzione perché è impossibile perché viene importato con il contagocce proprio trovo strano questo fatto che tanta richiesta che c'è venga importato così pochi addirittura nei shop online in italia non si può ordinare ma in altri paesi d'europa si non è permesso acquistare più di una latta della stessa tipologia tra l'altro ho fatto anche diversi video e vi lascio il link della playlist samuel gewitt tutti i video che ho fatto vi lascio il link nella descrizione del video se volete andate a vedere e queste queste nuove produzioni comunque sia hanno avuto di maggiori problemi del latte sembrano essere sottovuoto e se vedete qualche latta da qualche nei video internet eccetera o qualche fumatore è facile riconoscere le nuove dalle vecchie le sole vecchie sono questa golden glow che sto conservando sono hanno i contorni color oro quelle nuove sono color argento e praticamente non tengono bene il tappo si solleva non si sente l'aria che entra sembra appena appoggiato io ne ho aperte una decina di queste latte grigie qua e su dieci una risultata secca oltremodo l'ho dovuta ridratare non credo che il prodotto si sia conservato correttamente è un'altra invece l'ho aperta ho trovato veramente una spiacevole sorpresa che si chiama muffa ve la faccio vedere qui diciamo che su dieci due latte una secchissima e una o la muffa per quello che costano è un bel dispiacere altra opzione in italia però era possibile comprare i bulk questi qua 250 grammi a 90 euro che diviso per 50 grammi sono praticamente cinque latte viene 18 euro al latte questo è ancora possibile farlo con le rimanenze ci sono nei tabacchi io consiglio di farlo io ho preso questa qua e ve la faccio anche vedere da più vicino ma prima se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costerà niente ma a me aiuterà tanto a crescere video è un po asciutto un'umidità appena sufficiente comunque un po' d'aria la presa un bel colore tra il biondo chiaro e il biondo scuro intanto vi sto facendo compagnia con masto di paia dal 1975 con golden glow quello che avete appena visto è finito qua in giara a riposare però voglio concludere il mio pensiero dicendo che secondo me se si ha accesso al mercato estero bisogna tenere in conto che c'è la probabilità oggigiorno di pagarlo di meno sì ma è un po' più rischioso per quanto riguarda le latte rimanenza in italia a 30 euro io non ce la faccio a comprarmele però i bulk come questi che comunque l'ho trovato con un'umidità decente che rimangono nei tabacchi in italia io li toglierei da scaffali volentieri in italia il mio tabacchi per esempio mi ha detto che me lo avrebbe gli ho chiesto se lo potevo aprire davanti mi ha detto che comunque i tabaccai vengono rimborzati se c'è in caso di muffa o altro che il prodotto non è integro quindi glielo ho aperto tranquillamente davanti quindi se vi trovate per caso viaggiando a comprare un tabacco vi conviene aprirlo davanti direttamente così se non è se non è buono se c'è qualche problema non lo pagate spero di essere stato utile ai tanti nuovi fumatori se avete altre domande da fare scrivetemele nei commenti anche per chi fuma di più e queste cose già le sapeva se volete fare degli appunti scrivetemelo sempre nei commenti è sempre un piacere venite a trovare nei miei profili privati quando volete trovate i link nella descrizione del canale con accesso rapidi ai social io brindo sempre alla vostra salute con un po di gasolina e anche per oggi è tutto sia a pagare sta la prossima amico smoggers ciao ciao ciao